Buongiorno a tutti i telespettatori della web tv di Piero da Saronno, oggi siamo in compagnia di Laura che è una giovane artista savonnese che da qualche anno sta intraprendendo la strada della pittura attraverso gli studi che sta portando avanti ma anche l'esperienza ad uno dei musei presenti sul territorio savonnese. Allora Laura presentiamoci un po' come nasce questa passione, questa voglia di esprimersi attraverso i tuoi quadri? Ovviamente fin da piccola io sono sempre stata appassionata al disegno e all'arte perché penso che siano assolutamente delle cose meravigliose, delle cose fantastiche da presentare ovvio alle persone e ovviamente l'arte ha una sua espressione e io voglio dare la mia espressione all'arte quindi i sentimenti e le mie emozioni. I miei soggetti principali appunto delle mie opere e dei miei disegni sono assolutamente l'amore e le figure femminili. Perché? Perché ovviamente le figure femminili con le sue forme, con le loro forme, con i loro modi, i loro gesti presentano diciamo la perfezione e la bellezza della donna perché la donna comunque è un qualcosa di raro è considerata, la considero come una rosa, quindi appunto delicata, assolutamente la regina di tutti i fiori. E poi ovviamente l'amore perché è la mia maggior fonte di ispirazione quindi assolutamente sono le due cose principali. Ecco vi dicevi prima mentre stavamo bevendo un caffè che hai fatto qualche mostra e hai già esposto i tuoi quadri in passato. Ecco, ci puoi raccontare come, quando, dove e con chi soprattutto? Certamente, allora io sono coinvolta da più di un anno al Museo dell'Illustrazione di Saronno con a capo titolare il signor Piero Zanardi e appunto praticamente è un piccolo spazio per noi giovani appunto per farci sentire nel territorio saronnese, per mostrare diciamo i nostri piccoli talenti per farci venire alla luce e grazie a lui diciamo ci permette di fare tutto ciò e appunto tramite delle mostre riusciamo a farci travedere e conoscevi insomma. E' uno dei modi anche per esprimere a tutti, alla cittadinanza, anche quanto fatto. Avete fatto solamente iniziative su Saronno oppure vi siete spostati anche al territorio limitrofo? Ci siamo spostati anche a Solaro e adesso vedremo man mano di spostarci anche più avanti insomma, dobbiamo espanderti. Senti, allora qua mi hai fatto vedere prima un po' di quadri a me a Piero, vuoi anche farli vedere ai nostri telespettatori? Ovviamente. Ovviamente, come dicevo prima, questo è il mio primo disegno. Codesto praticamente inquadra due figure, maschili e femminili, che sono nell'atto appunto dell'amore, come dicevo prima, assolutamente la forza più importante e generatrice di tutti. Successivamente appunto anche questo rappresenta due elfi appunto nell'atto dell'amore, dell'amarsi, del baciarsi perché è questo che porta avanti diciamo il mondo. Successivamente... Posso fermarti un secondo Laura? Una domanda. Questi quadri, io non sono un grande esperto di art né di pittura. Volevo chiederti, come li realizzi? Cioè, come vengono portati avanti? Come vengono disegnati? Utilizzi dei metodi tipo Photoshop o altro? O è tutto natural? Come posso dire? Allora, per quanto riguarda la preparazione dei quali, dei ritratti, innanzitutto li inizio con a matita, assolutamente un disegno su carta matita. Successivamente li ritocco con Photoshop e ovviamente con qualche altro strumento, ma assolutamente, diciamo, la preparazione è semplice. E poi li stampo. E poi li stampo e vengono... Semplicemente vengono esposti. Esatto, vengono esposti. Allora, andiamo avanti con le restanti opere. Poi, appunto, come dicevo prima, l'altro tema che metto in risalto è la figura della donna. La donna appunto l'ho voluta ritrarre nella sua assoluta semplicità, nella sua bellezza femminile. In questo caso abbiamo un elfa, appunto, con le sue formosità e la sua bellezza. E un altro tipo di donna, invece, abbiamo una donna cyborg. Una donna cyborg, appunto, un tema un po' più macabro, un po' più, diciamo, forte. Appunto, lei che praticamente si vuole togliere di questo peso, però è sempre la donna. La donna che vuole emergere, la donna che vuole fare, insomma. Senti, mi ha tirato un po' la mia attenzione questo. Me lo descrivi per piacere. Certo. Allora, questo abbiamo appunto come tema la luna, i colori e soprattutto la fantasia. Appunto, volevo mettere in luce, diciamo, la fantasia, come dire, dell'universo, universale. Quindi la luna e sotto la luna si vede appunto il giallo, il giallo del sole. Quindi come se fosse un tutt'uno, un tutt'uno universale. Come se fosse, diciamo, tutti insieme. Ecco, una domanda. Quanto tempo impieghi per realizzare ognuno di questi dipinti? Ovviamente dipende dalla complessità del soggetto. Comunque in genere un'ora, un'oretta e mezza. E infine andiamo a chiudere chiedendoti chi ti ha sostenuto di più nelle tue iniziative. Come ci sarà stato qualcuno che ti aveva dato consigli preziosi e di cui tu avrai fatto sicuramente tesoro. Chi sono queste persone? Puoi essere completamente un'autodidatta. Allora, certamente mi ha spinto molto una mia cara amica, Giulia Coppola, e ovviamente per quanto riguarda la fonte di ispirazione dell'amore, il mio ragazzo. Ho conosciuto anche io Giulia Coppola e consiglio a Piero di andare assolutamente a visitarla perché i suoi quadri sono davvero bellissimi e meritano soprattutto. E sono esposti, se non ricordo male, al Museo dell'Illustrazione. Allora, io e Piero aspettiamo che ci regali anche a noi un quadro, non sull'amore, non sull'amore tra me, assolutamente, però aspettiamo un regalo anche per la nostra web tv. Ciao, un bacio e ci vediamo questo. È stato un piacere. Arrivederci, ciao a tutti.